Buongiorno, sono Abrini Maurizio, ho un'azienda prettamente sviluppata sulla movimentazione e produzione di foraggio, muoviamo circa 40.000 balloni all'anno e buona parte di questa movimentazione la facciamo con un paio di telescopici e delle forche maiò. Abbiamo in gestione circa 700 ettari di foraggio, passiamo 3.000 ettari di grano dove noi acquistiamo la paglia, la pressiamo, la movimentiamo, la cattastiamo per poi poterla vendere durante l'inverno. Alcuni anni quando economicamente è possibile pressiamo anche degli stocchi di mais, di soia, meno male quello che il mercato richiede. Allora di sicuro per parecchi anni ho preferito movimentare tutto il carico con delle forche. Diciamo che oltretutto la prima forca già nel 2000 me l'ha venduto il signor Osvaldo Serrasini nel 2000 su una macchina da 170 cavalli che richiedeva un prodotto di qualità e secondo me per la nostra movimentazione, per quello che ho visto sul mercato, il prodotto maiò era un prodotto di qualità. Aveva in quegli anni già il livello idraulico, cosa che a me piace molto, anche perché noi abbiamo un castello non originale maiò ma autocostruito che permette la movimentazione di più balle in una volta e durante diciamo il trasporto stradale un castello così alto con una forca che ha il livello meccanico ci avrebbe creato problemi a transitare sulla strada e quindi diciamo anche questo è stato un incentivo ad acquistare maiò nonostante i carichi che sono sono importanti rispetto alla concorrenza i carichi di strappo sono sono superiori